Sempre 28 giugno qui sul mio inseparabile e insostituibile Bertolini 432enne, il mio trattoretto, mostro il raccolto di oggi. Abbiamo, come avevo fatto vedere prima, attaccato all'albero, i primi tre pomodori, le zucchine, fiori di zucca, cetrioli e la prima melanzana. Il cetriolo, questo qui, fin dalla semina, l'ho chiamato cetriolo Matteo, vedete? È lungo e fino fino. È indolore. Vedremo, indolore ma non so il sapore. Adesso oggi lo assaggeremo e vi farò sapere. Comunque, diciamo che tanto dolce con quello che ci stanno facendo tra tasse, tasse addizionali, benzina e quanto c'è di più uno può mettere. E dobbiamo, diciamo, abbozzare. Fino a quando non lo so, insomma. Speriamo che non ci siano gente che perde il controllo di se stessa, di se stesso e poi magari perde anche la vita. Perché purtroppo questa società, questa ormai instabilità psittica dovuta proprio anche a questi sacrifici e questa visione del futuro nera, nel senso che non è che ci sono spiragli al di là delle parole, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, ci siamo messi d'accordo con Junque, grandi coalizioni. A capozza, stai bene coi fascisti, su dai, non te lamentare, adesso ti difendete pure il grande Silvio, dicendo che non ti preoccupare Silvio, che Beppe abbaglia ma non fa cri cri. Ciao Nicola, buona giornata a te e ai due fedelissimi, ai due fedelissimi ideali, insomma. Ha cambiato un po' troppo spesso, però va bene così. Rispetto Massimo domani e domenica, stasera è ben arrivata la festa di selle a Piazza San Giovanni, vi invito tutti a venire. Sto al ristorante, c'è una cucina strepitosa con delle cuoche eccezionali, a parte la Buratti, mi resto va tutto bene. Venite, venite, si spende poco e si mangia da Dio, se non altro siamo davanti alla Basilica San Giovanni. Passo e chiudo.